Spazio dello sportello del cittadino riservato all'ADOC Puglia. Quest'oggi affrontiamo un argomento davvero interessante che rappresenta un po' la piaga per tanti di noi. I disservizi con Trenitalia. Quanti disservizi, quante disavventure ci saranno capitate, almeno una nella nostra vita. Ma l'ADOC suggerisce un percorso, una via da seguire, la conciliazione paritetica. Ne parliamo con l'avvocato Cinzia Ligustro, che è appunto un legale di ADOC Puglia. Specifichiamo che nel caso in cui il viaggiatore subisca un disservizio legato ad un viaggio effettuato con Trenitalia, rigorosamente un viaggio effettuato nel territorio nazionale, può sporgere il reclamo autonomamente o rivolgendosi a un'associazione dei consumatori, può sporgere il reclamo a Trenitalia. Questo reclamo va fatto o con il metodo classico, quindi rivolgendosi alla billetteria o al punto di ascolto della stazione ferroviaria di arrivo, oppure lo si può fare ormai tramite fax, tramite raccomandata R o addirittura, fortunatamente, tramite e-mail agli indirizzi indicati sul sito di Trenitalia. Che cosa succede successivamente? Se il reclamo non è andato a buon fine, nel senso che il viaggiatore ha ricevuto una risposta negativa, quindi il reclamo non è stato accolto, oppure non ha affatto ricevuto risposta nei 60 giorni successivi alla presentazione del reclamo, può percorrere una seconda strada, che è appunto quella della conciliazione paritetica. Per il tramite delle associazioni dei consumatori, il consumatore, il viaggiatore, potrà chiedere a Trenitalia che la sua istanza venga analizzata nuovamente una seconda volta. La conciliazione paritetica è del tutto gratuita, è necessario soltanto compilare un modulo presente sul sito internet di Trenitalia, indicando tutti i propri dati, i dati del viaggio, quindi la data, la percorrenza, il numero di treno sul quale si è subito il disservizio, e indicare ovviamente qual è il disservizio che si lamenta. Costituita poi la commissione paritetica, cioè tra un rappresentante dell'associazione dei consumatori e un rappresentante di Trenitalia, l'istanza del viaggiatore verrà nuovamente presa in considerazione e per fortuna, insomma, nella maggior parte dei casi, in modo risolutivo.